Tre arresti per un giro di tangenti tra il Friuli e Roma e Manette un funzionario ministeriale e domiciliari, un responsabile tecnico della Pilosi, un libero professionista già collaboratore della società udinese. L'elettrodotto tra Vurm, la Chesson Plago potrà essere interrato, lo scrive alla regione l'amministratore delegato di Alpeadre Energia, la società promotrice del progetto che in origine prevedeva la linea aerea. Gioie e dolori del concorso della buona scuola, in regione solo 29 iscritti su 133 hanno superato la prima parte dell'esame per essere assunti un ruolo come insegnanti di matematica. Corsa contro il tempo in elicottero con l'aiuto della protezione civile per un trapianto di cuore su un sessantenne friulano, l'organo è stato prelevato a Trento, l'intervento è stato eseguito a Udine. Parla Mister Vennere alla vigilia della sfida con il Napoli, per vincere ci serve essere uniti, dice l'allenatore dobbiamo giocare come una squadra, davanti Depoletero insieme a Duvan Zapata. A tutti voi buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Tre arresti per un giro di tangenti tra Roma e il Friuli. In un'operazione della Guardia di Finanza è stato arrestato un funzionario del Ministero del Lavoro, sono finiti ai domiciliari un responsabile dell'ufficio tecnico della Pilosio e un libero professionista già collaboratore della società udinese. I dettagli nel servizio. Una maxi operazione delle fiamme giale di Udine ha portato alla luce un giro di tangenti da decine di migliaia di euro per sbloccare importanti appalti per la realizzazione di ponteggi industriali e civili. Tre gli arresti convalidati dal GIP del Tribunale di Udine. In manette è finito un funzionario del Ministero del Lavoro, coordinatore di una commissione ministeriale debutata al vaglio e all'approvazione dei progetti, che è finito in carcere, mentre due friulani, un responsabile dell'ufficio tecnico della Pilosio e un libero professionista, già collaboratore della stessa società udinese, sono stati posti agli arresti domiciliari. Il meccanismo, probabilmente in corso da tempo, era semplice ma molto efficace. Il funzionario aiutava la ditta a impostare le domande dei progetti industriali e, per velocizzarne l'iter, percepiva ulteriori mazzette. Il dirigente ministeriale si recava in Friuli per le sue prestazioni, con spese a totale carico dell'azienda e percepiva, di volta in volta, un compenso in contanti dal libero professionista, che a sua volta fatturava la società progettatrice in esistenti prestazioni di consulenza. Per accelerare l'itere degli appalti, i tre non si facevano problemi a falsificare bolli ufficiali del Ministero e firme. Numerose le perquisizioni eseguite dai militari del nucleo di polizia tributaria di Udine, tra Roma, nella sede degli uffici del funzionario e nella sua residenza, e Udine, negli uffici della Pilosio e nelle abitazioni dei due arrestati. Nella capitale sono ancora in corso le perquisizioni. A casa del dipendente del Ministero del Lavoro, infatti, oltre a decine di migliaia di euro, sono stati trovati anche molti documenti, che potrebbero aprire ulteriori filoni di indagine nei confronti di altre aziende attive nel settore. Somministrava farmaci, faceva iniezioni ad anziani e persone disabili, ma non era infermiera. È finita nei guai una badante e pizzicata dalla Guardia di Finanza di Gorizia. Iniezioni, prelevi di sangue, somministrazione di farmaci e tante altre terapie di anziani della provincia di Gorizia. Il tutto senza essere abilitata alla professione. È quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza di Gorizia, che hanno denunciato la donna, di nazionalità straniera, residente da anni nel territorio zontino, assunta da una società di servizi di assistenza domiciliare, per il reato di abusivo esercizio della professione. I finanzieri hanno effettuato perquisizioni negli uffici della società, ma anche a casa della donna e degli amministratori dell'azienda. Insieme a varie testimonianze di pazienti e dei familiari, ma anche dei colleghi infermieri professionisti, le indagini si sono strette intorno alla donna. Lei avrebbe dovuto compiere solamente operazioni socioassistenziali e ricoprire l'attività di badante. Invece somministrava flebo e faceva iniezioni, interferendo anche con la somministrazione di medicina, di fatto oltrepassando i limiti del lavoro per cui era stata assunta. Il sostituto procuratore di Gorizia, Valentina Bossi, ha disposto alla conclusione delle indagini preliminari per le richieste di rinvio a giudizio. Ha minacciato con un coltello un addetto del CAF, un letturista. Era sicuro che si trattasse di un truffatore intenzionato ad entrare in casa sua e così un 69enne è stato denunciato. L'episodio è accaduto ad Attimis. Ha sentito bussare alla porta e per tutta risposta ha estratto un coltello e lo ha puntato al malintenzionato. Ma era solo un addetto alla lettura dei contatori dell'acqua del CAF che compiva il suo lavoro. È accaduto ieri in una borgata di Attimis. L'incaricato, che svolgeva il giro di routine con tanto di tesserino identificativo, vedendosi minacciato con il coltello ha cercato di calmare l'uomo ed ha chiamato i carabinieri. I militari della stazione di Torreano e di Cividale sono intervenuti sul posto prima che il padrone di casa, di 69 anni, potesse ferire l'addetto e lo hanno denunciato per minaccia aggravata. L'anziano ha sicuramente scambiato l'incaricato dalla lettura del contatore per un malintenzionato, magari un ladro o un truffatore, che cercava di introdursi in casa sua, mostrando un falso tesserino creato ad hoc. Purtroppo sarebbe stato solo l'ennesimo caso di un reato commesso contro anziani. Però l'uomo non si è limitato a non aprirgli finché non avesse mostrato i documenti, come le forze dell'ordine suggeriscono. Invece è stato il coltello minacciandolo, continuando a tenerlo sotto tiro anche quando l'addetto ha tentato di identificarsi. Solo l'arrivo dei carabinieri ha tranquillizzato l'anziano, BM e le sue iniziali, che però è stato ugualmente denunciato. È un pluri pregiudicato 45enne, originario della Sicilia, il presunto autore della rapina messa in atto nella mattina dell'11 novembre all'ufficio postale di Grado. A tradirlo alcuni dettagli che non sono sfuggiti ai carabinieri. Un passavontagna artigianale ricavato dalla manica di un maglione con tanto di toppa ed un coltello da cucina inventariato poiché prelevato dall'appartamento che il malvivente aveva preso in affitto. Sono due dei dettagli che hanno consentito ai carabinieri di identificare in soli quattro giorni l'autore della rapina a mano armata messa a segno la mattina dell'11 novembre all'ufficio postale di Via Caprin a Grado, un colpo da 6.000 euro. In manetta è finito un 45enne pluri pregiudicato siciliano, M. Pile Iniziali, che abitava da 5 mesi nell'isola del Sole. Le indagini condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Gorizia, della compagnia di Monfalcone e della stazione di Grado, coordinati dal sostituto procuratore di Gorizia Paolo Ancora, sono state illustrate questa mattina a Gorizia. È stato il comandante del nucleo investigativo dei carabinieri, Maggiore Pasquale Starace, a spiegare i dettagli della rapina e dell'operazione che ha portato a fermare il presunto colpevole. Venerdì scorso attorno alle 8.20 un uomo alto circa 1,70 m, con il volto coperto da un passamontagna, con indosso pantaloni della tuta neri ed un giaccone scuro, è entrato all'ufficio postale di Grado e ha minacciato le due dipendenti e la direttrice con un grosso coltello da cucina lungo 20 cm. Ha arraffato il denaro o trovato, che in quel momento era sul bancone, circa 6.000 euro, e che la responsabile dell'ufficio stava per inserire nelle casse per consentire l'operatività dello sportello, quindi il malvivente si è dato alla fuga. I carabinieri hanno subito visionato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, hanno ricostruito il percorso seguito dal rapinatore e trovato, in un cassonetto delle immondizie di via Roma, il coltello, il passamontagna e la giacca utilizzate per il colpo. Quindi hanno concentrato l'attenzione sul 45enne. Durante la perquisizione del suo appartamento hanno sequestrato una felpa dei pantaloni e un marsupio compatibili con quelli indossati dal rapinatore. Il coltello trovato tra i rifiuti poi è risultato essere compatibile con quello fotografato, in occasione dell'inventario dei beni, dal proprietario dell'appartamento preso in affitto dal 45enne siciliano. L'uomo è stato fermato dai carabinieri in stazione a Roma. Nell'occasione sono stati trovati e sequestrati documenti falsi e biglietti del treno utilizzati dal rapinatore per allontanarsi da grado dopo le perquisizioni dei carabinieri. Sono in corso verifiche, abbiamo fondato elementi per ritenere che sia stato autore anche di un furto commesso ai danni di una sala scommessa alcuni giorni prima, sempre in grado. Io credo che sia importante in una comunità, in una zona fortunatamente tranquilla come può essere la zona del Goriziano e del Gradese che per un fatto criminale comunque di rilevante entità e che suscita un certo allarme sociale, questa operazione ha consentito di far capire all'opinione pubblica che il territorio è presidiato, le forze dell'ordine sono sul pezzo e quando accadono fatti criminali di rilevante entità la reazione dello Stato c'è e immediata e ritengo anche efficace. Sono 185 le truffe ad anziani accertate dai carabinieri di Cavalese in provincia di Trento nell'intero nord-est nel corso dell'operazione Ghost Shower. Le indagini hanno portato all'arresto di Ivan Bianco che potrebbe essere responsabile di altri colpi simili. I carabinieri hanno diffuso la foto dell'arrestato, la vedete ora, proprio per accertare se vi siano state altre truffe mai denunciate, invitando nel caso a contattare le forze dell'ordine. Le vittime delle truffe sono per lo più anziani, magari con disabilità e che vivono da soli. Questi venivano scelti con cura in base all'età, all'essere portatori di malattie neurologiche, invalidità e soggetti con problemi di deambulazione. Le vittime venivano contattate telefonicamente ed attirate con la proposta dell'installazione di una vasca da bagno, di una doccia più confortevole, funzionale. Cominciavano così i lavori ma dopo il pagamento l'impresario spariva lasciando le vittime truffate con il bagno distrutto. I carabinieri hanno stimato un giro d'affari di 20 mila euro al mese per mezzo milione accertato complessivamente. Non è detto che il numero complessivo di truffe messe a segno si limiti a 185 potrebbe essere appunto più elevato. L'elettrodotto tra Sonplago e Wurmlak, tra Italia e Austria, potrà essere interrato. La conferma è arrivata dall'amministratore delegato di Alpe Adria Energia, società promossa dai gruppi Fantoni, Pittini, Burgo ed Enel, Leonardo Zanella, in una lettera che ha indirizzato alla regione. È il frutto del lavoro dell'amministrazione regionale che si è impegnata a lungo per il cambiamento del tracciato che in origine era aereo, ha commentato la presidente della regione Deborah Serracchiani. È un obiettivo che c'eravamo proposti nel programma di governo e che ora è vicino a essere realizzato dopo che ci siamo confrontati con i comuni e con le ditte. Nella lettera si precisa che dalle analisi svolte è stato possibile definire una soluzione che consenta di realizzare il collegamento interamente in cavo interrato. La lunghezza totale in Italia del tracciato tra Sonplago e il comune e il confine austriaco è di 45 chilometri interessando i comuni di Cavazzo, Tolmezzo, Artaterme e Paluzza. Si tratta, ricorda l'assessore regionale Saravito, di due comuni in meno rispetto al precedente progetto dopo che era stata definitivamente abbandonata l'ipotesi di realizzare un elettrodotto tradizionale con percorso aereo. Lo studio di Alpeadre Energia apre ora alla possibilità di interrare l'intera infrastruttura. Gioie e dolori del concorso della Buona Scuola in Friuli Venezia Giulia. Solo 29 iscritti su 133 hanno superato la prima parte dell'esame destinato a coprire 99 posti in ruolo per l'insegnamento della matematica. Quello dell'istruzione è un settore sempre in fermento, non solo dal punto di vista dell'innovazione nell'apprendimento, ma anche per quanto riguarda l'organizzazione dello stesso insegnamento a cominciare dall'esito del concorsone avviato la scorsa primavera che continua a suscitare polemiche. Un aspetto evidenziato dalla segreteria regionale della FLC-CGL riguarda l'esito del concorso riservato ai 99 posti in ruolo per l'insegnamento della matematica. Su 133 iscritti solo 29 persone hanno superato la prima parte dell'esame e ora devono attendere l'esito degli orali. Cosa succede? Si chiede il segretario regionale Adriano Zonta. I test sono troppo difficili o mal articolati o le nostre scuole non preparano i giovani all'insegnamento? Evidentemente i conti non tornano ma non si riesce a capire se a essere sbagliati siano gli addendi o la somma. Sta di fatto che ora in regione rimane scoperta una settantina di posti. Siamo a novembre, continua Zonta e manca la graduatoria per i 482 posti nella scuola primaria su 1034 candidati mentre devono ancora iniziare le correzioni dei test dei 923 concorrenti per 189 posti nella scuola dell'infanzia. Il segretario CGL punta il dito anche contro le stabilizzazioni nel caso in cui un insegnante abbia presentato domanda di trasferimento da una sede all'altra e porta un esempio eclatante per far capire il problema. Assunto nella provincia di Trieste chiede di trasferirsi a Milano, gli viene assegnato il posto a Roma. Peccato che non figuri assegnato da nessuna parte. Fortunatamente casi di questo genere nella nostra regione sono pochi ma non dovrebbero accadere quando si parla di buona scuola che non tiene conto nemmeno dell'importanza del personale alleata che risulta essere sempre il più penalizzato. Dopo due anni si è conclusa la gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma se l'è giudicato la società TPL FVG che raggruppa gli attuali gestori. I nuovi servizi potrebbero essere operativi già da giugno 2017. Ieri sera la procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma in regione. Il servizio è stato aggiudicato per una durata di 10 anni ampliabili di ulteriori 5 alla società TPL FVG SCARL che vede raggruppati gli attuali gestori ovvero la società Trieste Trasporti, SAF di Udine, ATAP di Pordenone e APT di Gurizia. Si completa quindi l'iter dell'affidamento che ha visto l'amministrazione regionale impegnata in un complesso percorso durato oltre due anni. Ora sarà possibile un efficientamento del sistema dei trasporti con diversi vantaggi per i viaggiatori. Tra questi un servizio più integrato con più collegamenti, un'informazione omogenea e tariffe unificate. È previsto il rafforzamento dell'offerta a beneficio del servizio scolastico, sanitario, della mobilità turistica, degli interscambi trasfrontalieri e della copertura del territorio montano. Sarà garantita anche una maggiore sicurezza con l'installazione di telecamere a bordo, alla quale si aggiunge l'offerta di un servizio wifi gratuito su tutti i bus. Benefici anche per gli enti locali. Per loro la gara, oltre ai circa 41 milioni di chilometri a base d'asta, renderà da subito disponibili circa ulteriori 2 milioni di chilometri che potranno soddisfare le esigenze di copertura più flessibile del territorio. TPL FWG ha dichiarato di essere pronta a partire con i nuovi servizi entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto. Le novità quindi potrebbero essere operative da giugno 2017. Via Mercato Vecchio ancora nel Mirino. Confcommercio Udine e Udineidea dopo aver visionato il progetto presentato dal Comune chiedono la sospensione immediata della procedura di gara. Nel piano consegnato rilevano le due associazioni, mancano varie informazioni tecniche sulla sostenibilità economica. Il progetto insomma non risponde alla richiesta di un opportuno arredo urbano per la nuova Via Mercato Vecchio. Confcommercio ha così deciso di convocare un'assemblea pubblica per il 29 novembre alle 13.30 in Sala Valduga della Camera di Commercio per fare il punto della situazione con gli operatori economici. Staffetta salva vita tra Trento e Udine in auto e in elicottero per un trapianto di cuore su un sessantenne friulano in lista d'attesa da un anno. La corsa coltro in tempo per far arrivare l'organo nel centro di cardiochirurgia del Santa Maria della Misericordia di Udine è scattata quando l'ospedale di Trento ha comunicato la disponibilità di un cuore. Alle tre di rinotte partita da Udine è un'auto che ha raggiunto Trento con l'equipe composta da un cardiochirurgo ed un infermiere per il prelievo del cuore. Nello stesso tempo è stato mobilitato l'elicottero della protezione civile friulana che ha prelevato i sanitari e l'organo alle 10.10 e alle 10.50 minuti. L'elicottero poi è atterrato a Udine dove la sala operatoria era già pronta con il ricevente di una seconda equip di medici e infermieri. Questo coordinamento logistico ha consentito di ridurre al minimo i tempi che i tecnici chiamano di ischemia, cioè l'intervallo tra il momento del prelievo e quello del trapianto aumentando così notevolmente le possibilità di riuscita dell'operazione. Adesso occorrerà attendere qualche giorno per valutare il successo del reimpianto. Il Friuli Venezia Giulia si colloca al terzo posto in Italia per l'aumento di imprese artigiane a vocazione turistica per incrementare e valorizzare il settore. Confartigianato di Udine ha aderito all'iniziativa Open Factory che si terrà domenica 27 novembre. Nell'occasione otto realtà artigiane faranno conoscere al grande pubblico come nascono i loro prodotti. In Friuli Venezia Giulia l'artigianato collegato al turismo ha ampi margini di crescita. Lo dimostra l'incremento dello 0,6% delle imprese artigiane a vocazione turistica che mette la nostra regione al terzo posto nella graduatoria nazionale dopo Toscana e Trentino Alto Adige. Nell'ultimo anno a Udine le imprese artigiane a vocazione turistica hanno avuto un incremento del 2,2% e riguardano attività manifatturiere e dei servizi che sono al primo posto con il 28,7%. Per arrivare dopo trasporti di persone agroalimentari, ristoranti per asporto e pizze al taglio, abbigliamento e calzature, pasticcerie e gelaterie, all'1,6% di attività ricreative, culturali e intrattenimento. È quanto evidenziato da Confartigianato di Udine nella presentazione di Open Factory, il più grande evento di cultura industriale e manifatturiera del nord-est, che ha lo scopo di far conoscere al grande pubblico i luoghi dove i prodotti prendono forma. L'iniziativa spiega il presidente di Confartigianato di Udine, Graziano Tilatti, allo scopo di far conoscere le eccellenze e le potenzialità del mondo artigiano, per garantire un qualcosa in più al turismo e aumentarne la qualità. In provincia di Udine le imprese artigiane coinvolte sono otto, comprendono la lavorazione di marmi, laboratori di pasticceria e distillati, la creazione di oggetti di culto, la personalizzazione di oggetti da regalo e, per la casa, ricami, legatorie e laboratori con tecnologia di taglio laser. Confartigianato di Udine intende tra l'altro a promuovere un circuito turistico di alto artigianato che prevede l'ospitalità in strutture d'eccellenza, come quella di Gioia Bastianice a Gagliano di Cividale. Tutelare la lingua fa girare l'economia, sono le conclusioni del ciclo di incontri organizzati dal Laboratorio di Autonomia Iniziativa di 21 sindaci friulani. Investimenti pubblici per 150 milioni l'anno, di cui 95 governativi. È la cifra straordinaria che il governo basco stanzia per la tutela della lingua euskera, idioma parlato da circa un terzo dei 3 milioni di abitanti dei paesi baschi. A raccontare l'impatto economico di quest'azione, che genera un volano pari al 4,2% del PIL della regione di Bilbao, è stato il vice ministro della cultura del governo basco, Patsky Bazzarrica, ospite a Udine a Palazzo Antonini, dell'incontro conclusivo delle elezioni di autonomia, iniziativa di 21 sindaci friulani, riuniti appunto nel Laboratorio di Autonomia, per ripensare la nostra specialità in chiave dinamica. Nessuno l'ha svolto fino in fondo, ma è saltato all'occhio il confronto impietoso con il Friuli, dove i parlanti friulano sono la metà che i neuskadi, ma le risorse per la lingua sono invece irrisorie al confronto. Peccato, perché in questa regione il governo spagnolo alla stagione delle bombe dell'ETA ha risposto con la concessione di una fortissima autonomia, che lascia ai baschi la gestione dell'istruzione, della fiscalità, del sociale, dell'economia, del turismo, perfino la propria polizia. E questa autonomia è stata usata nell'ultimo trentennio per trasformare una delle aree più depresse della penisola iberica in una delle punte più avanzate per qualità della vita e sviluppo sostenibile, che per PIL, aspettativa di vita, indici di scolarità, supera di gran lunga il resto della Spagna e si colloca in molti casi ai vertici dell'UE. Una lezione quindi, quella del viceministro Basco, che deve fungere da stimolo anche per i nostri amministratori, per interpretare in chiave nuova la specialità della regione, anche perché esercitare in proprio tutta una serie di competenze può essere la via per riavviare i motori dell'economia e della società del nostro Friuli. Ricorre oggi il trentesimo anniversario della morte di Precheco Placereani, questa mattina un'iniziativa per ricordarlo in quella che fu la sua scuola, l'Icio Stellini di Udine. Grande commozione oggi a Montenars per questo particolare ricordo di Precheco Placereani. Sì, oggi la comunità di Montenars ricorda i trent'anni della scomparsa, lo ricordiamo per tante attività che ha fatto per la sua gente, in particolar modo l'abbiamo ricordato a quarant'anni del terremoto per il suo intenso lavoro verso i cittadini colpiti da quel tremendo giorno del 6 maggio 1976. Per tanti anni è stato a fianco a loro, ha lavorato con loro, si è dedicato moltissimo per far dare al Friuli l'università, quindi oggi proprio qui allo Stellini credo che sia un esempio, sappiamo anche che è stato insegnante, un esempio per i giovani di come si ama la propria terra, le proprie tradizioni e quindi credo che sia veramente una giornata emozione. Andrea Valci, presidente CLAP e la patria dal Friuli, ma anche ex allievo di Precheco Placereani. Qual è stato l'imprinting che le ha dato Precheco Placereani? Ma fondamentalmente di non aver paura e di aver coraggio. È stato un uomo, un prete che nel momento del suo insegnamento qui allo Stellini ci ha fatto un regalo enorme, quello del dubbio. Il dubbio che non è non è la sensazione di non poter far niente, di assistere impotenti a quanto ci circonda, ma invece quello di andare alla ricerca della verità il più possibile, la ricerca della verità e da questa trarre le forze di trasformazione. Ecco, credo che l'insegnamento al di là del suo essere un friulanista convinto, un autonomista convinto di averci anche dato molto da questo punto di vista, l'insegnamento, sia un insegnamento morale il suo, quello che non ci ha mai abbandonato. Si terrà a Capriva del Friuli il prossimo fine settimana la festa del ringraziamento per la provincia di Gorizia. In questa festa del ringraziamento provinciale siete riusciti a mettere insieme quattro comuni, si sono messi insieme per un detto facciamo a Capriva. Un bel esempio di collaborazione di varie comunità. Sì, è stato un lavoro intenso, ma credo laboratorio da riportare su altri temi. Il comune di Capriva del Friuli, assieme a quello di Moraro, Mossa e San Lorenzo di Sontino, hanno deciso di organizzare la festa provinciale nelle quattro comunità. L'iniziativa principale si terrà domenica 20 novembre a Capriva del Friuli, ma altre attività sono state organizzate nei tre comuni prima citati. È stato un lavoro di squadra. Ognuno ha saputo cedere o recuperare da una parte, ma credo che questo debba essere la visione futura per comunità, per municipalità piccole come le nostre. Di solito la festa del ringraziamento provinciale si fa a fine anno, nel senso che è finito l'anno. Che somme, cosa si tira a fine di quest'anno agricolo? Si traccia certamente qual è stata l'annata agraria, sia dal punto di vista produttivo sia dal punto di vista dei risultati politico-sindacali. Se dal punto di vista produttivo possiamo dire che è stata tutto sommato una buona annata, soprattutto per i vini, possiamo anche altrettanto dire che dal punto di vista politico-sindacale siamo riusciti a portare, a bancare come risultati dei risultati interessanti. Se pensiamo per esempio che nella fiscalità agricola abbiamo fatto sì che l'Imu Agricola, l'IRAP Agricola e dal primo gennaio 2017 l'IRPEF Agricola saranno abolite per le aziende agricole professionali. Ed ora la vignetta di Fernando Venturini. In vista della sfida contro il Napoli di domani, il mister dell'Udinese e del Neri invita la squadra ad essere unita contro gli avversari. Eccolo nella conferenza stampa della vigilia. Siamo preparati bene, è una partita molto complicata perché loro comunque, al di là delle mancanze che potranno avere, è stata costruita per ottenere importanti risultati in Champions e anche in Italia. Quindi i loro obiettivi sono all'opposto dei nostri, nel senso pratico. Quindi dobbiamo avere grande intensità. Speriamo di aver perso quello che avevamo di giorni fa. Per noi, insomma, poteva essere un prodotto di continuità, anche avere domenicamente le partite, però i ragazzi sono allenati bene, quindi comunque come approccio alla partita sarà sicuramente di grande attenzione. L'attenzione sull'avversario, le caratteristiche che hanno, le qualità che hanno, quello mi sembra doveroso e anzi è rispettoso per loro andare in qualità importantissime che ci possono, anzi, ci faranno sicuramente e ci daranno sicuramente grandi difficoltà. Dovremo essere pronti ad affrontarlo con il gioco di gruppo, l'aiuto, il gioco di squadra e non perdendo quelle che sono state le nostre piccole certezze di questi ultimi tempi. Faremo di tutto per tamponare le loro bocche di fuoco, se si può dire così, perché è una squadra che fa molti gol, fa molti azioni di gol, con grande qualità. E' una squadra che secondo me gioca un calcio super in Italia, per come vedo io in calcio. E noi la rispettiamo molto, non abbiamo paura chiaramente perché la paura nel calcio non esiste, ma la rispettiamo perché hanno giocatori di indubbia qualità e noi farmo di tutto per cercare di fargli mancare i rifornimenti, questa è la prima cosa. E la seconda cosa è di poter aiutare anche in fase di difesa, in una serie male l'uno contro uno, che magari può essere un fattore importante. Quindi aiuto di tutti, tutti molto corti, tutti propensi al sacrificio, che è stato poi quello che ci ha portato queste cinque domeniche a tenere qualche giocato importante. Quindi noi abbiamo un nostro diktat giusto e secondo me i giocatori devono esprimere il massimo delle loro caratteristiche per quello che sanno fare, poco o tanto che siano, e giocare da squadra. Per poter avere partita con Napoli bisogna giocare così. Noi pensiamo di giocare singolarmente con Napoli mi sembra che non ci siamo. E per domani il mister Del Neri non avrà a disposizione Alfredson e Pegna Randa, che comunque recupereranno per il Cagliari. Ecco allora la probabile formazione in campo contro il Napoli tra i pali Carnezis, in difesa Wittmer, Danilo, Vague e Felipe, a centrocampo Bado, Kums e Fofanà, in avanti De Paul, Zapata e Tero. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.